Eccoci qua, popolo di YouTube! Oggi, sabato 20 giugno 2019, andiamo a vedere un manicomio abbandonato. Mi sto già cagando addosso. Sarà una bella esperienza questa. Dove siamo? Siamo a Rovigo e stiamo a visitare l'ex ospedale psichiatrico. Detto manicomio. Di cui molti di noi resteranno qui. Visto, Mattia? Ragazzi, salutate tutti! Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.